Rieccoci nuovamente su Destroy All Humans, amici miei. Allora, nello scorso episodio abbiamo scoperto che cosa è capitato a Crypto 136. Adesso vediamo cosa ci aspetta, io vi invito prima di iniziare a lasciare un bel like all'episodio ed inoltre se non siete ancora iscritti al canale vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Allora, facciamo avvia missione. The data tape you retrieved from the human research lab has revealed a most disturbing development. Quindi adesso abbiamo umani che usano la telecinesi praticamente. raggiungi il laboratorio della Majestic, raggiungi il laboratorio senza farti scoprire. Porca paleta, vieni qua. Salve! Come andiamo? Oh, quasi. Un robot! Dov'era? Ah, qua il laboratorio. No! No! Porca paleta! Mi hanno sgamato! Maledizione. Oh, salve! Supera le difese Ah, adesso ho capito Qua le difese Chiudiamo Non siete invitati Non rompete le scatole Difendimi Bravo Allora E voilà Ok Difese superate Usa l'ascensore Perché c'è una buccia di banana qua? Non ci posso scivolare sopra Allora, cosa abbiamo qui? Qui abbiamo Niente di rilevante Qua c'è un'altra uscita Ma io devo andare su, non devo uscire Allora Mi hanno già sgamato Mi sa No, no, no Stanno vedendo Salta o usa il jetpack per evitare di farti colpire dagli impulsi Uccide il mutante Devasta il laboratorio Mi ha colpito attraverso il vetro Ma non è possibile Io devasto anche il laboratorio Non c'è un problema Che cacchio era che mi colpiva le sparole Ah, te ci neccio Non funziona Va bene Ma su di voi? Oh cacchio Oh cacchio Oh cacchio Oh cacchio Ne hanno già più di uno di mutante L'altro che è? Ok Devasta il laboratorio Immagino che intenda questo No, c'è ancora qualcosa da devastare Aspettate, aspettate Cosa sarà mai? Che cacchio è da devastare adesso? No, forse è da quella parte Infatti, allora Ok, torno di sopra Cioè, cominciano ad avere un po' troppe cose Questi umani E robot Mutanti E dopo cosa? Ok, distruggi quelle primitive bobine di Tesla Ma non avvicinarti troppo Altrimenti ci resti fulminato Tesla, Tesla, Tesla Che nome accattivante Disattiva le console delle bobine di Tesla Allora, io sono al centro Non osate spararmi Io esco E disattiviamo Oh Quelle bobine Una è andata Dov'è l'altra? Ah Oh, porca paletta Mi mancava il robot Oh, via, 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 via Quante ce ne sono? Ancora, ancora una Là che ci sono le muche radioattive Colpiscilo Ok, bel lavoro Ok, bel lavoro Sali a bordo del disco Volante Che potrebbe non essere più tanto facile Porca paletta E ora possiamo distruggere tutto Non ci credo Non ci posso credere, ragazzi Non ci posso credere E quanto ti ci vuole Eh, porca miseria Distruggo tutto Distruggo tutto Distruggo Non distruggo più niente Tutto Vai Che cavolo era? Missione riuscita All'80% Eh, vabbè Beneficenza sabotata I comunisti ostacolano la cura Per la fame nel mondo Ok, ragazzi Visto che è durata Abbastanza poco Questa Missione Direi di passare Alla prossima Vai, via Allora Partecipanti All'inaugurazione Di una linea aerea militare Allora Allora Quel povero Soldato indifeso Qua Allora Si Allora 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 bello, c'è il pulsante lì per entrare, magari non facciamoci sgamare subito allora, ufficiali scansionati, ufficiali uno, quello la ok, uno l'ho trovato no, questo qui non sa niente questo neanche, quindi posto sbagliato andiamo dall'altra parte a vedere non chiedi, non chiedi, funziona per me ma non c'è un altro ufficiale qui, o si mi sta sorge e non dubbio l'ho trovato, adesso ne manca ancora qualcuno, a quanto pare sembra che il tuo vecchio nemesis Armquist è arrivato nella città questo potrebbe essere un'opportunità per noi di uscire la foto, quello che è tutto devo trovare l'obiettivo non mi vestire, non mi vestire, quasi lì c'è un altro sergente, ma... lì c'è un altro sergente, ma... lì c'è un altro sergente, ma... lì c'è un altro sergente non mi vestire, non mi vestire, ti metterò nella città niente niente wow lì c'è un altro, vediamo lì c'è un altro sergente ok, ma c'è lui lì c'è un ufficiale ora John Wayne, questo è un ufficiale lì c'è un ufficiale lì c'è un ufficiale lì c'è un ufficiale ah no, è una sonda ah, ma aspetta, eccolo qua sì, ma non è rassegnato però, vabbè adesso raggiungi il tetto senza farti scoprire e vogliono investirmi, ma va bene tu parla pure con la signorina, non c'è problema oh, come lo raggiungo il tetto? aspetta 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 visto che sei ancora lì no porca paletta aspetta non è tutto lì c'è un ufficiale lì c'è un ufficiale a Salvati. Perché non ti mostrano i tuoi chiesti la nuca inizia? Non ho pagato 40 milioni di dollari per vedere un altro testo nucleare! Ho pagato per vedere il miglior peccato nucleare che ho mai fatto! Ah, freddo! Andrò in settore 13 a me stesso e vedo cosa sta succedendo! General... Non hai bisogno di andare al settore 13, la testa di testa sarà inizia a presto! Che? Una seconda prima hai detto che la X-13 non volerà! Ho detto che non era pronto, ma sarà! La tua dimostrazione sarà inizia a continuare! Tratti a noi, siamo il governo! Allora... Scansione al generale X... Oh, beh, quell'altro è ancora là sotto, quindi... Posso lanciarmi? Allora, fai cadere una cassa su uno scienziato, tira uno scienziato in un campo minato, scatena un incidente col barbecue, uccidi gli scienziati a capo del progetto! Allora, ho tre varianti, vediamo che cosa ci capita sotto mano! Fai cadere una cassa su uno scienziato! Oh, ah no, pensavo fosse uno della Majestic invece no! Oh, il barbecue! Uno è andato! Adesso... Vediamo gli altri! Devo stare attento a quello della Majestic però, eh! Oh, c'è appena stata un'esplosione, però nessuno corre a vedere! Mi raccomando, state tranquilli dove siete! Che non vi tocca proprio! Ah, la cassa! Ok! 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 Attira uno scienziato... In un campo minato adesso, va bene! Oh! Vediamo... Ah, lì è l'entrata! Adesso l'ho vista! L'avevo vista prima! Allora, lo scienziato, lo scienziato è lì! Cosa c'è qui? Cosa c'è qui? Come attiro lo scienziato nel campo... Ah! Sì, ho capito! Aspetta, magari... e poi avrai la piazza centrale. Ma non potrei andare a portare le piazza di B. Ma non potrei andare verso le piazza, anche se sono piccoli... E' troppo male! La piazza centrale! Oh, ho! Oh, ora si arriva e andava lentamente come non puoi usarelo! Uff! Oh no! E' un po' con me! Oh no, questo ragazzo è arrivato proprio su queste piazza! Non me ne ero io... E' la quattra questa settimana! Ok, distruggi le risorse militari, ah ok capito, quindi devo scatenare il finimondo, mi servirà No chiedis, non vedes, funziona per me Di pronto? Vai! Ia distrugato tutto! Ok. Entra nell'hangar da una bottola sul tetto. Sì, ma magari... vabbè. Bang, bang, bang. Vado a me per spargare la tua vita! Help! Nel prossimo sull'agenda... Stalla la guerra humana! Arrivo! C'è qualcun altro, non c'è? Prima, troviamo il nuovo X-13 che questi soldati hanno creato. Più più neanche? Come va! C'è qualcun altro? E distruggono tutti gli uomini in quel legno! E distruggono l'esercizio e i loro ricordi! E manteniamo il X-13! E facciamo salviare tutto! E non si sa mai! E non si sa mai! Sabota il prototipo dell'X-13! che è un disco volante! E' un disco volante! Sì! 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 Non c'è una parola problematica. Alguien si è passato dalla guardia. Si è iniziato a hangar 12. Si è un visitero? Si è iniziato così. Significa che non si è arrivato. Si è arrivato molto vicino. Si è arrivato non importa, agent. La seconda che si mette la base, mi voglio capire. E non ti chiede Armquist. Non bisogna più aiutare dal militare. Mi chiamami quando lo hai. Qualcuno ti chiedi. Ottimo ragazzi. Allora abbiamo concluso al 100% questa missione. vediamo i titoli di domani. Scienziati evaporati. Esperimento basato su due parti di cesio, una parte di quarzo plutonico e una bottiglietta d'acqua finisce in tragedia. Ok. Bene amici siamo giunti alla conclusione di questo episodio. Io vi invito a lasciare un bel like al video. Ed inoltre se non siete ancora iscritti al canale, vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Grazie ancora amici miei, noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ciao e grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.